Stoppata monumentale di Skylar Spencer Attenzione a Rita che prende il volo e con la Tomahawk inchioda il ferro Bello lo scarico per Corey Davis che ha chilometri di spazio Giocata meravigliosa di Michele Ruzier Thompson mette un punto esclamativo addosso a Austin Day Radojevic ha stoppato da Michael Covins Isevicius che attacca il recupero Prova a andare su poi vede molto bene l'intervento di Ellis Questa schiacciata di Diuf Può partire Cupen, alza il pallone Per l'affondata di Tai Odiazze Lenzwein che viene stoppato Reversa, Visma è il vato Watt dalla media Michel Watt Col pianestro che gela il palabarbuto L'affondata di Dio L'affondata di Dio L'affondata di Dio